Ciao a tutti e come sempre ben ritrovati per un nuovo Astro Caffè da passare insieme. Questa mattina parliamo di Venere e in particolare di vita su Venere. Ora, lo so che a vederla così non sembra esattamente un posto dove andare a fare le vacanze o dove andare a cercare forme di vita, visto che Venere è esattamente quello che non vorresti vivere come vacanza. L'atmosfera di Venere è così densa che sulla superficie abbiamo circa 90 volte la pressione atmosferica terrestre e temperature fino a sopra 470 gradi Celsius. Nell'atmosfera così densa ci sono nubi di acido solforico, piove acido e non solo, nella maggior parte dell'atmosfera superiore i venti sono quasi supersonici. Ora, in questo scenario da incubo dove ci sono enormi fulmini, dove non c'è un campo magnetico planetario e dove le condizioni sulla superficie sono come una gigantesca pentola a pressione, non ti aspetti di trovare vita. È un po' come cercarla, chiesto, sul sole o a Perugia, dove palesemente tutti sono fatti di cioccolato. Quindi, provateci. Avete mai dato un morso a un perugino? Appunto, quindi non potete contraddirmi. Quindi, fino a prova contraria, i perugini e i venusiani sono esattamente a essere immaginari allo stesso modo. Non sappiamo se... Su Perugia ci sono delle fasi ora di test per vedere se è abitabile, ma Venere no. Non sappiamo se è abitabile perché le poche missioni che abbiamo fatto in realtà duravano poco ed erano più incentrate sul capire che diamine è successo a questo pianeta. Perché se guardiamo allo scenario attuale, non è quello che sembra essere sempre stato presente su Venere. Quindi, se guardiamo per esempio la massa di Venere, la composizione di base di questo pianeta, come strutturato dentro, è molto simile alla Terra. Non solo. Quando è nato, qualsiasi processo ha portato acqua sulla Terra, deve aver portato tanta acqua anche su Venere. Quindi è molto probabile che all'inizio della storia Venere avesse avuto vasti oceani sulla superficie. Non solo. Dato che era più vicino al Sole, questo pianeta poteva avere molta più chance di mantenere l'acqua liquida nella prima parte dell'evoluzione del Sistema Solare. Per cui c'erano buone possibilità che per almeno la prima parte, qualche miliardo di anni iniziali, due miliardi, tre miliardi di anni iniziali, Venere avesse avuto più chance di avere forme di vita rispetto a, per esempio, Marte, che ha perso buona parte dell'acqua già dopo il primo miliardo di anni. Ora, è successo questo? Era davvero così? Non lo sappiamo. Ed il motivo per cui non abbiamo idea è perché la maggior parte della crosta è stata tutta sbriciolata. Quindi immaginatevi di prendere un perugino e lo sbriciolate piano piano piano. E quello che è successo è l'intera crosta di Venere. Rispetto alla terra che ha vaste placche ecotettoniche, quindi alcune scivolano una sotto l'altra e sono sempre in movimento, e ha vulcani che sputtano fuori lava e hai un continuo movimento di dove il magma si sposta, su Venere, forse, da quello almeno che vediamo finora, c'era un'unica gigantesca placca che teneva sotto pressione il magma sotto, che si è accumulato tantissimo, fino a quando non è eruttato tutto insieme in un unico gigantesco movimento che ha coinvolto tutto quanto al pianeta. Questo lo vediamo perché la maggior parte della superficie di Venere sembra avere intorno ai mezzo miliardo di anni. 500 milioni di anni e basta, che è pochissimo perché, per esempio, se guardiamo superfici planetarie come Marte o la Luna, sono piene zeppe di crateri giganteschi, Mercurio pure. Sulla terra non succede perché sulla terra è continuamente movimento e erosione per cui i segni sono spariti, ma tutti gli altri posti mostrano la densità di crateri tipica di un lungo bombardamento costante. Quello che non è presente su Venere è appunto una densa presenza di grandi crateri, per cui sappiamo, in base al numero di crateri presenti, che la superficie deve essere molto giovane. E quindi qualsiasi cosa ha trasformato Venere come la vediamo ora, è avvenuta nell'ultimo mezzo miliardo di anni, ma non abbiamo ancora tracce di come era prima. Ora, potrebbe essere che se il movimento delle placche ora non c'è più, magari c'era un tempo. Può anche essere, e questo dovrebbe non farvi dormire la notte se pensate di diventare immortali, perché può essere che la stessa cosa che è successa a Venere, con il blocco dei movimenti di placche, sia anche il destino della Terra. Non sappiamo quanto durerà il movimento delle placche tettoniche. È possibile che a un certo punto le placche della Terra si fermino, e la stessa cosa successe su Venere succede anche qui, con le placche che rimangono bloccate, e poi accumulano, accumulano, accumulano magma sotto pressione, e poi Venere 2.0, con un po' più di Perugia. E la stessa cosa può succedere magari in altri scenari su altri pianeti fuori, per cui Venere è interessante, perché noi vediamo esopianeti intorno ad altre stelle. Possiamo dire, guarda, quel pianeta è esattamente nel posto giusto per avere acqua liquida sulla superficie, in base alla distanza dalla stella. Però è un pianeta come la Terra o un pianeta come Venere? Quindi, ritornando però all'abitabilità di Venere, c'è anche una buona notizia. Ora, nell'atmosfera non è tutto costante, la pressione diminuisce man mano che vai verso l'alto. E c'è una zona a circa 50 km di altitudine, dove la pressione è circa un'atmosfera terrestre, e dove la temperatura varia tra, grosso modo, 10-20 gradi Celsius e 50-60 gradi Celsius. Per cui, è un range in cui la vita riesce a cavarsela abbastanza bene. Ora, in questa zona potrebbero esserci forme di vita. Come sono arrivate qui? Allora, se la vita ha avuto inizio sulla superficie, e se ha avuto abbastanza tempo durante questi cambiamenti verso Venere infernale come la vediamo ora, magari alcuni venti sono riusciti a portare forme di vita nell'atmosfera, e se il cambiamento è avvenuto abbastanza piano, hanno fatto in tempo ad adattarsi. Sulla Terra ci sono batteri che sono sopravvissuti e sopravvino ancora nell'atmosfera terrestre. Quindi, chissà, magari forme di vita hanno fatto in tempo ad adattarsi a vivere nelle nuvole che si muovono molto velocemente all'interno dell'atmosfera. Magari si nutrono di minerali, si nutrono di zolfo, e magari possono usare, per esempio, molecole come intorno a sé, come una specie di guscio per proteggersi dall'acido. E quei stessi batteri, magari, possono usare luce, perché a quell'altitudine arriva abbastanza luce. Non solo, è ancora meglio, perché a quell'altezza non sei ancora fuori dall'atmosfera, ce n'è molta sopra di te. Per cui, anche se non c'è un campo magnetico planetario, quell'atmosfera sopra di te è abbastanza da bloccare una buona fetta delle radiazioni del Sole. Per cui puoi avere abbastanza luce, da avere fotosintesi, non abbastanza da essere completamente fritto. Quindi, c'è vita su Venere? Eh! Questa è una bella domanda. Abbiamo però due piccoli indizi. Uno, negli anni 70-80 abbiamo lanciato delle missioni verso Venere. E alcune di queste, chiamate Venere, sono scese fino alla superficie. Che, se non avete mai sentito di questa storia, per me è una storia pazzesca. Cioè, è come se avessimo lanciato qualcosa nell'inferno. Se solo ci fosse, tipo, un racconto di questo. Eh, non so, è tipo una delle storie più avvincenti della storia dell'esplorazione spaziale. Ok, finisco. Comunque, tornando a noi. Nell'atmosfera di Venere, le sonde Venere hanno misurato la presenza di molecole enormi, dei polimeri, fatte da atomi di zolfo a otto coppie. Quindi sono otto atomi di zolfo in un anello. E sono lì presenti. Ora, sappiamo che queste molecole sono perfette per usarli come guscio. Se tu usi queste molecole di zolfo 8 e le metti tutto intorno a te, puoi proteggerti da arcedo solforico. Che resistono all'occlusione. Non solo. Abbiamo anche scoperto che ci sono delle enormi bande scure nelle nuvole di Venere che assorbono ultravioletti e non abbiamo idea di cosa siano. Ci sono dei composti che possono fare lo stesso lavoro a assorbire ultravioletti, per esempio cloruro di ferro. Però sono molecole grosse, difficili da portare dalla superficie di Venere fino in alto a 50 km e mantenere lì. Per cui, anche se ci sono alternative chimiche, non abbiamo idea di preciso di come farle arrivare lì o come potrebbero dare lo stesso segnale. Quindi, anche se incredibilmente piccola, c'è davvero una buona chance che ora ci sia qualcosa di vivo nell'atmosfera di Venere. Per me è una delle cose più belle e emozionanti del momento perché non abbiamo ancora mandato nessuna sonda a cercare questo, non abbiamo ancora neanche sfiorato il potenziale enorme di esplorare Venere. Dato che è una densa atmosfera e dato che l'atmosfera è di CO2, noi con l'aria che respiriamo potremmo costruire un dirigibile che possa stare lì per anni, senza problemi. E potremmo respirare la cosa che ci mantiene a galla. Ho fatto un intero video su questo, si chiama Havoc, link in descrizione. E vi voglio accennare un altro progetto da un'azienda che è chiamata Northbound Groupman, è americana e si occupa di progetti molto ambiziosi, specialmente nel campo militare, ma in questo caso ha sviluppato un progetto per una sonda da lanciare nell'atmosfera venusiana. Si chiama VAMP e sta per Venus Atmospheric Manoeuvrable Platform. Una piattaforma manovrabile nell'atmosfera di Venere in grado di usarla come drone per viaggiare intorno a Venere nei venti a velocità altissima per misurare la composizione, per usare infrarossi per vedere come cambia la superficie. Se ci sono ancora vulcani, non abbiamo idea. E ultima, poi finisco, c'è sulla superficie una zona che si chiama Afrodita Terre, che è gigantesca, e in alcune di quelle zone ci sono dei materiali delle rocce che non sono tipici di tutto il resto del pianeta. E c'è un buon sospetto che quelle zone di rocce possono risalire a prima di qualsiasi cosa ha sconvolto Venere così. Quindi potrebbero esserci delle piccole patch di rocce che risalgono a quando Venere non era come la vediamo ora. Magari era piena di acqua. Quindi incrociamo le dita, speriamo tantissimo che ci siano fondi per le missioni venusiane. Purtroppo Venere non riceve mai abbastanza pubblicità. Quindi molto di questo dipende da voi. Se voi avete abbastanza forza sui social, eccetera, per parlare di quanto è figo Venere, è possibile che questo piano piano, nel tempo, esercita abbastanza pressione nell'immaginario collettivo da avere in futuro missioni verso Venere. Quindi speriamo bene. Io per adesso vi saluto. Un grande abbraccio come sempre. E abbraccio anche a quelli di Perugia, anche se ovviamente non possono salutare se no il cioccolato si frantuma. Quindi attenti a non stare troppo sotto il sole. E noi ci vediamo la prossima volta. Continuate ad essere meravigliosi. Il video è durato un po' più del solito, quindi non vi trattengo oltre, ma volevo solo accenarvi che se vi piace Venere, se volete scoprire la storia di come siamo atterrati o tutte le altre missioni, incluse dei palloni aerostatici che abbiamo lanciato, questo ragazzo ha scritto un libro meraviglioso, sono molto imparziale a riguardo, in cui trovate tutto quanto. Quindi trovate il libro, link in descrizione, noi ci vediamo per un altro video, ma nel frattempo cliccate qui sui vari social e condividetelo se vi piace Venere. Magari facciamo una differenza, quindi condividete il video con tutti i vostri amici.